Lungo confronto tra il comune di Brindisi e di massimi rappresentanti della società calcistica brindisina in un incontro richiesto proprio dall'amministrazione comunale. Primo punto è stato quello dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie D che come garantito dalla società dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Ci ha fatto piacere che la società è venuta in massa, quindi tutti i soci si sono presentati e con loro è stato un rapporto franco, un discorso abbastanza sincero dove ognuno di noi ha espresso le sue iniziative per far sì che il calcio brindisino possa tornare ai farsi di un tempo. Ci aspettavamo la sorpresa oggi, non si è verificata, comunque ci hanno garantito che domani o al massimo da mattinale dopo domani faranno l'iscrizione, questo è già il punto di partenza. Noi lo ripetiamo sempre, l'ha ripetuto il sindaco durante l'incontro. È una società privata, i rapporti all'interno della società sono quelli che devono esserci tra singoli operatori, singoli soci. Noi interessa il calcio soprattutto per quello che può dare a livello di immagine. All'incontro hanno preso parte tutti i soci e i dirigenti del Brindisi che si sono confrontati con il sindaco e l'assessore allo sport. Il sindaco ci ha invitato a questa riunione per sapere un po' come era la situazione della società, della solidità della società. Noi abbiamo risposto che la nostra tranquillità siamo tutti quanti venuti per dare la tranquillità anche al sindaco. Le nostre operazioni le stiamo facendo, penso che nel giornale di domani faremo l'iscrizione. Poi è normale, ci stanno delle piccole problematiche, le tasse, non tasse. Noi manderemo le carte nostre alla Lega e poi ci sarà un consulto della parte di chi vedrà i nostri documenti e poi penso che non ci sia nulla di più dire sul vecchio. Per la programmazione della prossima stagione però bisognerà ancora attendere qualche giorno. Queste sono cose che partiranno subito dopo l'iscrizione per poter iniziare a decidere la tipologia di squadra che il nostro direttore sportivo con il prossimo allenatore del Brindisi inizieranno a dare vita alla squadra.